Avevo nove anni, i miei genitori si sono separati, le cose erano davvero cambiate in poco tempo. Non conoscevo Dio, non sapevo niente di Lui, volevo anch'io capire come Dio mi poteva parlare, volevo anch'io sentire la voce di Dio, ho iniziato a leggere la Bibbia, sentivo di avere bisogno di Dio nella mia vita. Ho fatto un'esperienza personale mia con Dio, Dio guarisce come guariva, ci credo che il Signore fa queste cose. Nella Bibbia ci sono solo due strade e io personalmente ho scelto di essere con il Signore.